Il treno regionale di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente da Perugia Sant'Anna, è diretto a Terni, delle ore 7.54, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente da Terni, è diretto a Perugia Sant'Anna, delle ore 7.12, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.